Il Partito Democratico chiede che si porti in Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2014. Per mezzo di una nota firma del segretario cittadino Massimo Ingeimo, la sezione di via Smara esorta l'esecutivo ad intraprendere iniziative urgenti per rilanciare l'attività economica licatese che è in coma profondo. Per questo motivo, si legge ancora nella nota di Ingeimo, chiediamo che l'amministrazione rispetti la promessa di portare in Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2014 entro il mese di marzo, già prorogato ad aprile, per poter verificare quali risorse del proprio bilancio destina all'occupazione, al sostegno e alla ripresa dell'economia locale. Non vorremmo che tale termine si protragga oltre fino ad arrivare a dicembre così come l'anno scorso. Il documento a firma di Massimo Ingeimo affronta poi la questione legata al convegno di oggi pomeriggio in cui si parlerà delle prospettive occupazionali offerte da Sviluppo Italia. Veniamo a conoscenza dell'iniziativa di organizzare per oggi pomeriggio un seminario informativo nel quale spiegare ai cittadini le misure finanziate dal governo Letta in tema di autoimpiego ed autoimprenditorialità. Il circolo del PD locale spiega Ingeimo già lo scorso 1 febbraio 2014 ha organizzato un incontro molto partecipato dal titolo New Job Opportunities, nel corso del quale l'onorevole Tonino Moscat ed esperti del settore hanno illustrato il decreto legge del governo che ha destinato per i giovani delle aree del mezzogiorno 80 milioni di euro per finanziare le misure dell'autoimpiego e l'autoimprenditorialità. Come abbiamo ripetuto più volte si conclude la nota dei democratici. L'azione politica di un'amministrazione non si determina però nel dare informazioni ma nel progettare lo sviluppo della città e dentro questo progetto porre i cittadini nelle condizioni di svolgere le proprie attività economiche.